Ciao ragazzi, benvenuti sul canale, io sono Marco, e io sono Domenico. Cosa vedete qui che non ci entra in cam? Nuovissimo arrivo, Bakugo, di My Hero Academia. Non potevo non prenderlo. Qui le varie... Le varie versioni. The Brush, The Anime, The Toons, Two Dimensions. Ecco qui. Quattro versioni. Guardate, la scatola. Sembra messa veramente in condizioni perfette. Vediamo dentro. Ecco qui ragazzi. Guardate come è bello diviso nella sua confezione. È molto grande. Abbastanza gigantuccio. Come sempre c'è la testa proprio copertissima che non si può vedere. Eccolo qui. Allora, sì. Non si apre, vero? Ecco qui. Sono le testiche incredibili. Vabbè, meglio così, no? Attenzione. Olè! Bellissimo, però. Wow. È magnifico. Eh, lo so. Eh, ragazzi, ban presto. Che volete fa... Che volete di... Che io vuoi di a ban presto o no? Brava. Vai, brava, brava. Ah, però dillo a meno a tratti, eh. Allora. Ma che vuoi? Oddio, scoprivo gliela faccia. Ma vabbè, ragazzi. Cioè, è un capolavoro. Cioè, è lui. Ma va. Bellissimo. Adesso andiamo alla parte di sotto. Clamoroso. No? Oh mio Dio. Attenzione, intanto poi sta ficando il mondo proprio in tuoni, pulmini, in lampi, in tutto. Guarda, si regge da solo. Sei sicuro che non è baculo? Cioè, vuoi di sei sicuro che non è baculo. Vabbè. Perfetto, ragazzi. Quindi, basta, in teoria. Olè. Mamma mia. Tu compravi solo il ban presto difficile da montare. Mamma mia. E vediamo, magari è difficile da montare queste cosette. Cioè, è inverso? Sì. Uno qui e uno. Uno qui. Ragazzi, è un capolavoro, veramente. Stupendo. Che qualità. Cerco un attimo di aumentarvi più la qualità. Oh mio Dio, adesso si vede benissimo. Proprio fantastico. Non potevo non prenderlo. Tanta, tanta roba. Quindi, si regge pure senza piedistallo. Quindi, tanta, tanta roba. Per sicurezza, mi chiedo con testo. Oh, per sicurezza, sì, sì. Sì. Vabbè, lo metterò. E quindi, possiamo concludere qui il video su questo grande spettacolo, consigliatissimo, come sempre. Quindi, possiamo concludere qui il video. Se vi è piaciuto, e penso di sì perché, come fa, non piacere, vi mettete un mi piace, soprattutto per sapere cosa ne pensate. Seguite su tutti i social esistenti. E ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao. Ciao ragazzi.